Siamo qui con Stefano Gallinaro che è il project manager di Unismart, quindi per la prima volta un hackathon che dall'ambiente formativo originario dell'università scende un tantino e si confronta con le scuole superiori. Beh, prima volta per noi sicuramente. La sfida di proporlo anche ai ragazzi delle superiori è stata lanciata dai comuni e per noi è stato motivo di interesse fin da subito, quindi abbiamo detto siamo bravi a farlo con i ragazzi universitari, ma cosa hanno in meno i ragazzi delle scuole superiori? Beh, lanciamo una sfida anche a loro e vediamo, magari è un modo anche per loro per poi iscriversi all'università e creare nuove competenze e nuove reclute per la nostra università, il nostro Teneo. Per la sua esperienza, cosa scopre di se stesso un ragazzo che sceglie di partecipare a un hackathon? Scopre innanzitutto che ha un sacco di idee e che le sue idee valgono qualcosa, perché molto spesso magari i ragazzi hanno dei sogni e li pensano irrealizzabili. Poi scopre che lavorando insieme si può fare molto di più che non lavorano da soli e che a volte il mondo del lavoro può essere persino divertente. E invece le aziende che si espongono a questa sfida cosa scoprono? Le aziende scoprono che c'è tanto valore nelle novità e c'è tanto valore nella gioventù. Spesso questa cosa viene dimenticata perché si tende a dire, eh ma ho fatto le cose così da 50 anni perché dovrei cambiare. Eh no, cambiare è il motore dell'innovazione ed è il motore del futuro. Siamo qui con l'assessore e vice sindaca alle opportunità sociali Silvia Lasfanti, che oggi ci parla di questo hackathon, che per la prima volta va a incidere sul territorio di Sandona di Piave, ma non solo, di altri dieci comuni. Due parole su questa iniziativa. Sandona di Piave è capofila di un gruppo di 11 comuni della Sandonatese del Porto Gruarese che stanno lavorando insieme ormai da due anni per sviluppare attività per i giovani sfruttando i finanziamenti del piano per le politiche giovanili della Regione Veneto. Tra queste attività quest'anno abbiamo voluto inserirne una che permetta ai ragazzi di acquisire delle competenze in vista di un inserimento nel mondo del lavoro. Tutto ciò che riguarda l'entrare in contatto con situazioni reali e concrete, sperimentarsi su una progettualità reale posta dall'azienda e anche acquisire delle competenze come ad esempio lo saper lavorare in gruppo, la capacità di dialogare con chi ha percorsi formativi diversi dai propri e quindi poi andare a tirare fuori il meglio per dare una risposta concreta e attuabile alla sfida posta. Ricordiamo che questo hackathon è dentro anche appunto il percorso delle politiche giovanili ma c'è anche un piano delle politiche giovanili in collaborazione con l'Ulse e con Insieme Si Può. Cosa prevedete come iniziative per il 2020? Ci dà qualche anticipazione? Le iniziative del piano sono già partite perché prevedono anche un grosso lavoro con le scuole superiori del territorio per la prevenzione del disagio giovanile. Uno degli strumenti che viene utilizzato su coordinamento dell'Ulse 4 è la peer education. Si tratta quindi di formare i ragazzi più grandi affinché possano accompagnare i loro coetanei più giovani nello sviluppo di competenze in determinati ambiti, ad esempio la prevenzione dell'uso delle sostanze, il bullismo perché si parte dal presupposto che il messaggio che può passare un ragazzo vicino di età sia molto più forte e incisivo rispetto a quello di un adulto quindi si crea un accompagnamento, un sostegno verso i più piccoli che si sentono anche inseriti e accompagnati all'interno del contesto scuola dai ragazzi più grandi. Siamo qui con il sindaco Andrea Cereser che ospiterà come comune capofila questa prima edizione dell'Hackathon. Cosa ci aspetta per la città da questa innovazione che arriva sul nostro territorio? Ho avuto esperienze di situazioni simili in cui i risultati sono sempre stati sorprendenti e superiori anche alle aspettative alle aspettative delle imprese, a quelle dei ragazzi, a quelle degli organizzatori quindi mi aspetto che sia un'occasione per far nascere le cose nuove quindi per essere innovativa come esperienza sia nel metodo ma soprattutto anche nei risultati che le imprese possano anche magari cogliere qualcosa che non avevano ancora tenuto in considerazione che i ragazzi possano anche capire nel percorso magari di scelta della prossima tappa che sia università o che sia mondo del lavoro, che cosa è più affine alle loro attese, anche ai loro sogni eccetera quindi tante aspettative diverse e sono contento che ci sia questa possibilità di creare questo contesto immaginando che poi possa anche avere continuità.